Te parite chi? Lutero? Era un personaggio molto ombroso, scuro, terrorizzato dalla presenza del divino. Quando era giovane, passeggiava lungo una strada, si stava spostando, a un certo punto scoppia un temporale terribile. Sai, lì in Germania quando fai temporali mena parecchio, pure qui da noi in realtà. Terrorizzato, cerca rifugio nei pressi di un albero, arriva un fulmine che butta giù l'albero. Rimane, come dire così, inebbetito di fronte a questa manifestazione della potenza divina. E allora in quel momento fa voto al Signore che se si fosse salvato sarebbe andato in convento. Infatti ci va in convento, si salva evidentemente, arriverà poi a casa tutto inzuppato, però si salva e quindi va a fare il frate, il frate Agostiniano. Lui è un frate. Lutero è un personaggio curioso perché da una parte è estremamente tradizionalista, è quasi un uomo del Medioevo. Dall'altra parte Lutero è un grande rivoluzionario, in un certo senso. È un grande rivoluzionario nonostante lo stesso Lutero. Cioè lui come persona non lo è. Questa è una cosa molto interessante. Perché guardate come funziona poi la storia, ieri come oggi. Io posso lanciare un messaggio culturale molto significativo, come fa Lutero, e avere determinati intenti, di cui poi diremo. Ma questi intenti poi possono essere recepiti da altri soggetti in maniera diversa o diversamente interpretati. Quindi accade sempre così. Sapete, è la stessa cosa che funziona con gli influencer, i personaggi pubblici. E' un po' tutti noi. Chi è che conosce Pirandello? Uno, nessuno, centomila. Noi chi siamo? Lei chi è? Questo vale per i singoli individui. Figuriamoci per i personaggi pubblici. Nel senso, un conto è l'uomo Lutero, che dal punto di vista storico, in qualche maniera, si può studiare attraverso i suoi scritti, la storia della sua bibliografia. E abbiamo dei documenti, gli storici ci possono lavorare. Dall'altra parte è l'impatto sull'immaginario collettivo che Lutero, che poi diventa il luteranesimo, avrà. E accade sempre così. Ai personaggi pubblici, immaginate i grandi fondatori di religioni, o i grandi ideologi. Alla fine, un conto è quello che tu vai dicendo, o quello che è il tuo intento personale. Un conto è il modo in cui viene recepito. Sapete, magari nella storia ci sono tantissimi personaggi che non conosciamo perché non sono mai diventati personaggi. Sono rimasti uomini in carne ed ossa. Quindi magari quelli che troviamo nei manuali, li troviamo perché sono diventati personaggi, perché hanno smosso qualche cosa. A volte in maniera del tutto casuale, non dico sempre e comunque a loro insaputa, a volte post mortem. Cioè loro sono morti in disgrazia, quasi da anonimi. Sono stati riscoperti magari successivamente. Vale per grandi artisti, vale per grandi scrittori, per grandi filosofi, eccetera, eccetera. E allora, siccome oggi vi parlo comunque del personaggio Lutero, e vi stavo accennando prima come Lutero in sé per sé, è un personaggio molto all'antica, è un monaco, il termine monaco non è esatto, è un frate. Lui è un frate. E la sua visione della religione, anche se poi provocherà una forma di rivoluzione importante, importantissima, con la quale ha inizio la modernità. E vi ho accennato nella precedente lezione come la visione luterana, per come è stata recepita, ha gettato le basi del pensiero moderno, della coscienza moderna. L'individuo, la coscienza, modi di pensare diversi, il fatto di leggere direttamente le scritture. Una rivoluzione copernicana. Copernicana si intende, no? Mettere il sole al posto della terra. Ecco, quindi una visione che muta completamente gli assetti della visione del mondo dell'uomo occidentale. Tuttavia, lui, Lutero, non immaginava nemmeno che avrebbe fatto qualcosa. Non era il suo intento. Il suo intento, paradossalmente, che poi è l'intento di tutti i grandi riformisti di quest'epoca, è ritornare alle origini, purificare il cristianesimo. Quindi, vedete come i due termini, rivoluzione, quando noi usiamo il termine rivoluzione, Caterina, immaginiamo ad un futuro completamente diverso, a qualcosa di assolutamente progressivo, innovativo, che non se ne ha visto. Tendiamo a indicare questo con il termine rivoluzione. Mentre con restaurazione o riforma intendiamo qualche cosa che c'è già stato e che dobbiamo, in qualche maniera, ripristinare. Che cosa è che va ripristinato? Ve lo dicevo nella precedente lezione. L'antico spirito cristiano. Perché la Chiesa, così come è strutturata, così come si è andata manifestando negli ultimi secoli, che è la decadenza della Chiesa, o la crisi della Chiesa, il termine decadenza forse non è esatto, la crisi della Chiesa era iniziata, vi dicevo, da molto lontano. E quindi che il cattolicesimo, che la fede, la Chiesa, il modo di essere cristiani e le strutture della Chiesa dovessero essere riformate. Su questo erano un po' tutti d'accordo. Un po' tutti d'accordo. A cominciare da chi aveva a cuore, quindi da quei prelati che avevano a cuore i destini della Chiesa, così non si poteva andare avanti. Corruzione nel senso pratiche, la simonia, la compravendita delle cariche ecclesiastiche, sacerdoti che vivevano in concubinato, si chiama nicolaismo, cioè vivevano, more, oxorio, con donne con le quali non erano nemmeno sposate. Il nepotismo, per non parlare di quelli che collezionavano beni finanziari, beni economici a destra e a manca, raccogliendo varie prebende, eccetera, eccetera, o che facevano un cattivo uso delle decime, che erano le tasse che la comunità pagava per la Chiesa, per il mantenimento del parroco locale e a evidentemente anche per le opere di carità, eccetera, eccetera. Quindi, che la Chiesa non funzionasse come si doveva, che fosse scollegata, in parte scollegata, dal popolo, dalla gente. Guardate, oggi, Gabriele, giustamente, a voi questa cosa qui non interessa, perché ormai gli cristiani non ne esistono più, a parte alcune eccezioni. Noi siamo post-cristiani, quindi la cosa comunque ci riguarda molto più di quello che pensiamo. All'epoca sono tutti cristiani. Cioè, quando tu vedi qualche cosa che non va, tu vedi, non so, un'ingiustizia, o vedi che quello si sta arricchendo alle tue spalle, che quello se la passa bene e tu e i tuoi figli morite di fame. Il tuo modo di ragionare, parliamo dell'uomo del Cinquecento, il tuo modo di ragionare è il modo cristiano. Cioè, quando noi, uomini del ventunesimo secolo, subiamo un'ingiustizia, o vediamo qualcosa che non va, cerchiamo di spiegarci, di spiegare a noi stessi, di interpretare il mondo in cui, che ci piaccia o meno, siamo gettati, ci troviamo a vivere, utilizziamo determinate categorie. Abbiamo una nostra filosofia, una nostra visione del mondo, più o meno consapevole o inconsapevole. Cioè, abbiamo bisogno di strutture, di concetti, di idee, di cui a volte, ripeto, non siamo consapevoli, utilizziamo così, in maniera veloce, eh? Automatica. però abbiamo bisogno di queste idee per dire, ah, questo non va bene per questo motivo, quest'altro, ho subito un'ingiustizia, meritavo sette, invece ho avuto soltanto sei. Ecco, magari, questo linguaggio così, terra-terra, lo capiamo tutti. Oppure, ah, mi hanno aumentato le tasse. Va bene? L'uomo del Cinquecento ragiona esclusivamente in termini cristiani. Quindi, quando vede il suo interlocutore, il quale dovrebbe essere lui per primo testimone della corretta interpretazione dello stile di vita cristiano, comportarsi in maniera assolutamente non cristiana o peccaminosa, ovvero, quello che dall'altare vi parla della povertà di Cristo. per poi collezionare nelle sue mani più o meno grassocce una serie di anelli di materiale prezioso, di metallo prezioso. Beh, questa cosa qui, come dire, mi fa ribollire il sangue dentro ed è ancora più stridente perché a farmi la predica è uno, è un modo di dire, che utilizziamo ancora noi oggi, che predica bene ma razzola male. Predicare è tolto, è un termine, è un verbo che è tolto dal linguaggio ecclesiastico, vada sì, quindi il modo di dire, predicare bene, razzolare male, fa riferimento proprio a quella roba lì. E allora, che la Chiesa andasse riformata era sentimento comune, non è che sarei inventato Lutero, perché poi questi grandi personaggi hanno un grande impatto perché dicono la cosa giusta, forse senza nemmeno volerlo, nel momento giusto. La dicono in qualche maniera nonostante loro stessi questa cosa viene diffusa, viene resa pubblica. Vi dico una cosa, Lutero e luteranesimo senza la stampa, la macchina da stampa, senza l'invenzione della stampa, non ci sarebbe mai stato, meglio, la persona Lutero sì, non ci sarebbe stato il luteranesimo, ovvero quella visione del mondo non avrebbe avuto quella diffusione che poi effettivamente ha avuto, così come il tizio influencer che dicevamo prima, Pinco Pallino, non sarebbe un influencer se non ci fosse la rete, o se non fosse andato in quella trasmissione televisiva, se non si trovasse al posto giusto, nel momento giusto, con gli strumenti giusti. Capite? Perché, ripeto, un conto è la persona, un conto è l'immagine pubblica di quella persona, è l'impatto del messaggio che è associato al discorso di quella persona sui più. E poi c'è un'altra cosa fondamentale, il mezzo. Il mezzo è il messaggio, il mezzo è il messaggio, come dice il grande sociologo canadese Mac Luan, vissuto nel ventesimo secolo. Il mezzo è il messaggio, la tv è il messaggio, il giornale è il messaggio, in questo caso qui il messaggio è la macchina da stampa. E il luteranesimo diventa qualche cosa di pubblico, di diffusissimo, poi lo vedremo in tutte le categorie sociali, dal contadino fino al principe, passando per l'intellettuale, passando per il mercante, passando per il cavaliere, a tutti arriva la notizia e arriva attraverso la stampa, attraverso i libri, ma non tanto i libri, i libri li maneggiano comunque gli umanisti, le persone colte, o qualche piccolo libro un po' più semplice lo può maneggiare anche un borghiese, per carità, ma fondamentalmente attraverso che cosa è più potente della parola scritta? Sono le immagini. E che cosa si fa con la macchina da stampa? Si creano delle immagini, delle litografie con l'inchiostro, evidentemente, nero. I copisti medievali miniavano e usavano anche i colori, ma un libro, una vita, un libro, una vita, un volume, una vita intera. Qui abbiamo la macchina da stampa, le stampa cettinaia, migliaia, decine di migliaia di immagini, alcune sono anche immagini satiriche, in cui si celebra appunto il personaggio di Lutero, ma poi si stampano anche i primi testi, ma fondamentalmente la Bibbia e i Vangeli. e si stampano in quale lingua? Ve l'ho già detto, in tedesco, in tedesco, e l'uderanesimo parla tedesco, nasce in Germania, poi si diffonderà anche fuori dalla Germania, però fondamentalmente parla tedesco, tedesco, cioè, capite, tedesco, volgare, volgare, si capisce, se hai un minimo di istruzione, se sai leggere un testo, e nasce anche con la diffusione del luteranesimo, vedete come il mezzo e il messaggio sono l'uno coerente all'altro, non avremmo il messaggio senza il mezzo né il mezzo senza il messaggio da veicolare, sono un tutt'uno. La stessa cosa che vale per i social, va bene? le immagini arrivano e arriva anche l'esigenza di imparare a leggere e scrivere, scusate, la logica dell'istruzione elementare per tutti, che noi oggi diamo assolutamente per scontata, noi, nel ventunesimo secolo, ma da dove deriva? Deriva esattamente da questa epoca storica, da questo snodo che è fondamentale. Cosa si tratta? di leggere e di capire? La parola di Dio, perché questi sono fondamentalmente, visceralmente cristiani, e quindi tu devi imparare a leggere la parola di Dio a otto anni, nove anni, dieci anni, devi imparare a leggere perché devi leggere la parola di Dio, perché leggere la parola di Dio vuol dire comunicare con Dio, scusate se è poco, scusate, è né più né meno che quella visione, quell'abilità, quella visione del mondo, quella visione religiosa, che gli ebrei hanno dalla notte dei tempi. L'ebreo che fa? Dalla notte dei tempi, la notte dei tempi, da quando esiste la religione, va da sì, che fa? Va nel tempio, va nella sinagoga, si tira fuori il rotolo e tutti sanno leggere e legge salmodiando la parola di Dio. I cristiani? I cristiani no, non necessariamente. Chi è che legge? Che leggeva? prima della riforma protestante alla parola di Dio. Erasmo da Rotterdam, sì, Tommaso Moro, i grandi umanisti, ma anche un parroco che avesse un minimo di rudimenti, per carità, un mercante che avesse imparato a leggere. Ma parliamo comunque di una minoranza di persone. Già magari il guerriero, quello, diciamo, tosto che fa la guerra fondamentalmente magari non sa nemmeno leggere, o se sa leggere, Carlo Magno, per esempio, parliamo di un'epoca completamente diversa, insomma, Carlo Magno era Carlo Magno. Beh, lui, sì, sapeva leggere qualche cosa, ma non sapeva scriverla. Fondamentalmente gliene leggevano le cose. Capite? La parola era ancora basata sulla tradizione orale. Ma capite come cambia le cose? Come cambiano completamente le cose? Quando tu, per esigenze religiose, perché il concetto è questo, io debba poter parlare con Dio. Quando tu impari a leggere, che cosa cambia? Termini di rapporti di forza, rapporti di potere. Vi faccio un esempio banale, che ha nulla a che vedere con la religione. Sapete cosa vuol dire Giosuè, no? essere minori, essere minorenni. Poi voi a compimento di 18 anni automaticamente diventerete maggiorenni. Un automatismo che comunque nell'epoca presente ha senso, fino a un certo punto, perché sapete cosa vuol dire essere minori o maggiori o maggiorenni? Essere minore vuol dire che sei sotto tutela. Tutela dal punto di vista economico, giuridico, a volte anche esistenziale. Da parte di un maggiorente, i genitori, la patria potestas, no? Che vuol dire che lei in quanto minorenne non può per esempio comprare un immobile o meglio lo può fare ma non in prima persona. Ha bisogno essendo minorenne o finché è minorenne ha bisogno dell'assistenza del maggiorenne. Quindi io posso comprare un appartamento e intestarlo supponiamo a mia figlia che è minorenne. Questo lo posso fare ma tu come minorenne non lo puoi fare. E allora se tra maggiorenne e minorenne metteteci il discorso l'esempio è quello del saper leggere e scrivere. Io ti metto davanti un testo non è il testo religioso ma l'origine nel testo religioso ti metto dinanzi un contratto contratto di compravendita di affitto quello che vi pare a voi e tu non lo sai leggere tu dal punto di vista economico civile giuridico e in ultima istanza esistenziale tu dipendi dal tuo interlocutore chi sa leggere domina e dirige le azioni la volontà di quelli che non sanno leggere né più né meno scusate adesso ve l'ho semplificato in questa maniera ma guardate che oggi noi diamo per scontato il saper leggere e forse facciamo male a darlo per scontato perché il punto fondamentale il punto fondamentale Federica oggi non è più quello di saper leggere delle frasi semplici un mondo in cui viviamo è estremamente complesso dovremmo imparare a leggere testi complessi e dovremmo ciascuno di noi imparare ad orientarci in ambiti diversi con giochi linguistici diversi quello giuridico quello economico quello finanziario e chi più ne ha più ne metta quello tecnologico perché già leggere un testo tecnologico o leggere le istruzioni per montare un apparato elettronico è diverso da leggere un testo sociologico o una versione di greco per capirci quindi pensate quante competenze dovremmo avere capite di che cosa stiamo parlando e allora questo punto questo snodo da qui la progressiva indipendenza di queste persone e quindi luteranesimo si diffonde come messaggio religioso perché il punto di partenza è religioso ma nel momento in cui necessitato a poter parlare con il divino debbo imparare a leggere e a scrivere e imparo a leggere e a scrivere in una società che rimane profondamente cristiana io quel leggere e scrivere viva il Dio lo posso utilizzare anche in altre faccende capite? è molto più difficile incartargliela a lei cioè devo ricorrere ad altri metodi a lei che sa leggere e scrivere che è luterana che è protestante che sta nel nord Europa sto generalizzando al massimo è più difficile incartargliela incartargliela nel senso io che detengo il potere dominare sulla sua coscienza manipolarla che fa il potere ti manipola no che ti piaccia o meno diciamo se è un potere paternalisticamente declinato forse lo fa anche dell'interesse del minore ma insomma essere in balia di qualcun altro è sempre cosa spiacevo poi magari questo qualcun altro è un buon padre o forse non lo è forse non lo è non lo sappiamo però se lei sa leggere e scrivere e io per manipolarla ho difficoltà decisamente maggiore rispetto al fatto di manipolare lei che invece non sa né leggere né scrivere sapete avete capito quando uno diventa molto vecchio magari ha qualche patologia neurologica può essere dichiarato incapace di intendere e di volere perché non capisce più niente gli metti davanti un testo non lo sa più leggere e dunque ha bisogno di qualcuno che firmi al posto suo che si assuma la responsabilità al posto suo quindi vai dipendi da qualcun altro sei in balia di qualcun altro che ci auguriamo sempre sia una persona affettuosa cara e che faccia il tuo interesse ma non sempre è così avete capito cos'è il gioco qui stiamo parlando di una parte della popolazione europea è un walk in progress non lo possiamo vedere nel 500 nel 500 c'è la scintilla e questa scintilla è religiosa è la diffusione del luteranesimo quindi di quel lutero che è il luteranesimo percepito dalla gente non la persona di lutero che è appunto un frate all'antica in qualche maniera reazionario è uno che legge San Paolo Sant'Agostino è un professore universitario ma chi lo capisce poi è anche un'ottima persona è anche un bravo prete è anche un bravo prete a modo suo però è un personaggio assolutamente modesto il massimo che può fare luterano come persone è fare lezione all'università dove ci sta un gruppo di interlocutori che sta a leggere e scrivere e che studia teologia lui non è uno che va lì ad un arruffapopolo uno che accarezza la gente uno che fa piazzate come per Tetzel che vendeva le indulgenze non è un personaggio del genere è proprio uno all'antica anche piuttosto riservato molto coraggioso però riservato il lutero invece del luteranesimo è quello che si diffonde attraverso la stampa e i testi scritti e quei testi scritti pian piano pian piano creano sviluppano quelle abilità quelle visioni del mondo che porteranno alla modernità oggi noi diamo per scontato che uno sappia che debba imparare a leggere e scrivere e dovrebbe anche maturare un minimo di senso critico però guardate che la scuola elementare in Italia è stata istituita per la prima volta quella obbligatoria è stata istituita dopo nascere nel regno d'Italia quindi parliamo di un secolo e mezzo fa mica tanto tempo fa nel mondo cattolico che rimane separato dal mondo riformato imparare a leggere e scrivere è una cosa che è riservata a pochissime persone il conte Leopardi sa leggere e scrivere ha una cultura sopraffina Silvia a cui lui dedica la poesia probabilmente era analfabeta siamo nella prima metà dell'ottocento per capirci se andiamo più su a nord quindi nella Germania luterana o nella Francia piuttosto che in Scandinavia o poi vedremo anche in Inghilterra invece magari andiamo da uno a un contadino o un oster poi magari mettiamo davanti un testo e quello non lo sa leggere e che comunque ti sa dire ti sa citare ti sa dire magari malamente ma mica tanto malamente ti sa recitare interi passi della Bibbia e si sa orientare nella lettura della Bibbia ma se si sa orientare nella lettura della Bibbia magari si sa orientare anche nella lettura di una legge scritta capite la differenza di mentalità e non è un caso che nel settecento la prima rivoluzione industriale scoppia per così dire proprio in Inghilterra e lì c'è una diffusa middle class ma anche low class che sa leggere scrivere sa leggere scrivere che l'ha imparato o i loro nonni l'hanno imparato per poter parlare con Dio per poter leggere la parola di Dio però magari io lo uso anche in altri ambiti che sono quello imprenditoriale quello tecnologico ancora di acqua sotto i ponti ne deve passare però qui ci sono le basi capite in che senso poi il luteranismo sarà rivoluzionario nonostante l'utero il messaggio e il mezzo si chiamano a vicenda guarda se volete vedere qualche qualche cosa qualche icona era instagram della prima metà del cinquecento guardate ci sono queste simpatiche vignette su instagram a pagina 539 guarda luterus triumfans sono delle vignette satiriche la satira politica vedete però questa non è solo per le persone corte o per i grandi intellettuali questi vengono stampati a centinaia a migliaia magari finiscono nelle mani anche dell'oste dell'oste del fabbro anche del contadino perché no ce l'ha lì in mano magari non sa leggere o legge a malapena alcune cose ma sapete qui c'è poco da leggere questi sanno leggere perché sono abituati da generazioni a leggere le immagini allora vi faccio un altro esempio a proposito del mezzo che è messaggio se uno di voi oggi entra anche il sottoscritto senza la guida della professoressa di storia dell'arte entra in una chiesa barocca o in una chiesa del cinquecento e alza gli occhi alla navata principale letteralmente è un analfabeta non capisce niente se ci danno un testo scritto capiamo qualcosa si fa per dire dipende dal livello culturale però leggiamo andiamo a cercare su internet ma se noi entriamo in una chiesa a parte forse delle cose scontate siamo semi inalfabeti nel senso la madonna la riconosciamo no? Gesù Cristo in croce ancora forse ancora per poco lo riconosciamo già sui social non può circolare sai Matteo questo è accaduto è una cosa veramente è un segno dei tempi Facebook ha bloccato la trasmissione in diretta della via Crucis fatta da Radio Maria insomma gli si può di tutto però per contenuti sessuali e violenti perché c'era l'immagine di Cristo esteso sai con il perizoma torso nudo l'hanno crucifisso nudo almeno così sembra evidentemente e per l'intelligenza artificiale era nudo insomma sanguinante quindi violenza sessuale e gli hanno bloccato la trasmissione chiuso la parentesi fra un pochino l'intelligenza artificiale non sarà nemmeno in grado di riconoscere forse nemmeno lui visto che saremo come dire pilotati dall'intelligenza artificiale o dalla stupidità artificiale dipende eh? ma insomma oggi ci muoviamo in questo scenario qualche cosa sappiamo riconoscerla ma se io vado non so in una chiesa famosa San Luigi dei Francesi che sta vicino al Senato vado lì io letteralmente non capisco niente a meno che io non ho vicino un professore storia dell'arte un esperto che mi dice vedi quello lì ecco quello è San Luigi e che sta facendo lì è maestro ti raccolto la storia sta facendo quella cosa vedi che ha quel simbolo in mano vedi ogni santo del mondo cattolico ha un suo una sua iconografia di riferimento cioè tu riconosci che quello è San Lorenzo perché vicino ha una graticola perché è morto martire arzo vivo su una graticola o riconosci San Sebastiano perché ha il corpo pieno di frecce perforato dalle frecce perché ha fatto quella terribile fine ma dice quello è San Sebastiano vedi allora noi leggiamo siamo in grado di leggere solo in minima parte le icone le icone leggiamo i testi scritti e leggiamo oggi le icone quelle che stanno sui smartphone viviamo in un mondo iconico le immagini va bene? capite come cambia? e allora quando girano queste stampe vedete queste immagini che forza che hanno e la gente del tempo le capisce vedi qui c'è il Papa Leo X Leone X che poi tra l'altro era il figlio di Lorenzo de' Medici era un Medici che era diventato Papa che è quello con cui si confronta Lutero e dall'altra parte vedete c'è Lutero siamo a pagina 539 Lutero eh? il Papa ha siso in quella maniera e Lutero in piedi che squaderna che apre che cosa? la Bibbia il testo sacro quindi di fronte al Papa la massima autorità del tempo lui Lutero umile frate fraticello agostiniano ha in mano la sacra scrittura ed è Luterus Triumphans è lui che vince questa disputa in questo braccio di ferro tra un'autorità puramente istituzionale ma non supportata dalla parola di Dio da chi si è arrogato quel titolo di rappresentante di Cristo in terra rispetto alla vera viva presenza di Cristo che è quella rappresentata nelle salve scritture è lì nei Vangeli che c'è Cristo vedete quanto è iconico quanto è significativo questo gesto infatti uno dei punti qualificanti della visione luterana è sola scrittura e solo attraverso la scrittura è un ablativo complemento di mezzo mettiamolo in questi termini è solo attraverso la scrittura cioè la sacra scrittura la Bibbia ma devo imparare a leggere comunque per poter leggere la scrittura che sia sacra o non sia sacra che mi salvo che mi rapporto con Dio come faccio a salvarmi mi salvo attraverso Cristo solo Cristo è Cristo che mi salva all'epoca pensavano così oggi non crediamo più a niente e oggi come ci salviamo non ci salviamo oggi non ci salviamo abbiamo rinunciato l'idea di salvarci diciamo che chi può terrestramente si salva con un sacco di soldi pensa di potersi salvare e con le tecnologie però sono visioni terrene qui parliamo della salvezza dell'anima capite è uno scenario un po' più ampio di quello nostro e non crediamo più a nulla qui si parla di salvezza dell'anima scusate se è poco non è che si sta parlando di vincere una partita uno scontro un incontro di karate come fa Giorgia ti può dire bene ti può dire male qui si parla della salvezza dell'anima non si tratta di essere o meno rimandati in greco capite la questione è decisamente più delicata e come ci si salva ci si salva solo attraverso Cristo io sono la via la verità io sono la salvezza questo dice Cristo chi crede in me vivrà in eterno Matteo annuisce quindi conferma è l'unico in grado di seguire chi crede in me vivrà in eterno non morirà non è che ti promette che poi magari se ti dice bene ti viene abbonato a una materia oppure c'è uno sconto fiscale o forse trovi un posto di lavoro qui si tratta della vita eterna e come si ottiene la vita eterna solo attraverso Cristo è Cristo che ti salva ma dove sta Cristo come c'entro in contatto con Cristo questo medico che mi salva questo medico dell'anima cioè se tu stai male c'hai una malattia seria c'hai un dolore forte che cosa vuoi che cosa cerchi cosa vuoi uno ti viene a parlare dell'ultimo influence quello ti dice che dopo domani c'è l'interrogazione del greco quell'altro ti dice che l'altro giorno ha visto su Instagram tizia che faceva quella cosa ma te tutto questo ti rimbalza tu vuoi che ti passi il dolore in quel momento o no e che cosa vuoi vuoi sapere il numero di telefono è l'indirizzo di questo medico che ti salva che può salvare allora qui si tratta di salvarsi l'anima e l'indirizzo il numero di telefono è quello che passa per Cristo è la Bibbia è il Vangelo tu devi andare lì da Cristo è la parola che ti salva capite perché diventa fondamentale la scrittura ed è fondamentale perché Cristo è nei Vangeli Cristo è i Vangeli e a quel punto sapete un'altra cosa che ha contraddistinto l'età moderna e che noi oggi ci stiamo progressivamente dimenticando è il cosiddetto diritto costituzionale è la certezza della legge ovvero è la legge scritta perché se le leggi non sono scritte tutto diventa arbitrario è così e chi lo dice che è così? eh lo dico io cioè una delle caratteristiche fondamentali delle cosiddette libera democrazia mettiamolo tra molte virgolette perché oggi la propaganda ne abusa delle cosiddette liberal democrazia è il cosiddetto stato di diritto che vuol dire stato di diritto? vuol dire che il potere si dà in funzione o perché c'è la legge l'ex facit regem è la legge scritta che fa che fa il re è dalla legge che deriva il potere ovvero chi esercita il potere altro non fa o non dovrebbe fare che applicare la legge e dunque se tizio o tizia non applica la legge io l'ultimo dei cittadini invocando questo o quell'articolo della costituzione o del codice civile o del codice penale o del codice della strada posso dire no tu non hai potere su di me il potere è quello della legge quindi riconosco la tua autorità nel far applicare la legge nel multarmi se qui c'è un dirieto che mi impone di andare a massimo 70 all'ora io stavo andando a 90 all'ora e quindi riconosco il fatto che ho sbagliato ho violato la legge non è che ho fatto un torto a te non sei tu l'autorità tu come persona tu sei al servizio della comunità ovvero al servizio della legge facendo applicare la legge mi seguite? ma questo sistema questo modo di pensare si dà nella misura in cui c'è una legge scritta un testo scritto carta canta come si suol dire questo lo sapevano pure i greci pensate che una volta tanti anni fa viaggiando in Grecia mi imbattei in una polis in una città c'era una città ancora si vedeva con le mura e la costituzione di questa polis era scritta ancora tutto in piedi era una piccola polis era scritta sul muro cioè tu entravi ti avvicinavi alle mura della città che ancora erano in gran parte in piedi e man mano che ti avvicinavi era epigrafata tutta la costituzione tutte le leggi in modo tale che quando varcavi il cancello era la tua scelta di varcarlo o meno non è che potevi dire mo io questa cosa non la sapevo stava scritta lì la legge questo vuol dire certezza del diritto la legge è uguale per tutti però la debbo conoscere la legge perché se non conosco la legge automaticamente sono come dire indifeso di fronte all'arbitrio almeno questa era l'idea una volta allora questo adesso vi ho raccontato in questi termini laici l'importanza della conoscenza della legge e del testo scritto ma capite l'origine non è laica ancora una volta è religiosa qui non si tratta semplicemente di rispettare il codice della strada che è cosa buona e giusta peraltro né si tratta semplicemente di far valere quella clausola del contratto del mio interesse qui si tratta della vita eterna o della dannazione sola scrittura questo significa solo Cristo questo significa avete capito di che cosa stiamo parlando allora se avete capito questo avete anche capito il nesso che c'è tra i primi paragrafi e il numero 4 quando si parla di una rivoluzione culturale e ha ragione l'autore del manuale a dedicare un intero paragrafo dopo aver brevemente descritto le vicende di Lutero sulle quali non si sofferma più di tanto ma giustamente più che Lutero in sé per sé qui stiamo parlando del luteranesimo è quello che è rivoluzionario cioè come viene recepita la vicenda di Lutero e senza la rivoluzione culturale e vedete i sottotitoli il ruolo della stampa non aggiungo altro perché ne parliamo ormai da settimane la lingua del popolo e infatti Lutero traduce in tedesco pensate un'operazione clamorosa che gli richiederà anni chiuso in questa fortezza di Wartburg salvato da Federico il Savio da chi gli voleva mettere le mani addosso per farlo fuori lui si ritira lì e per anni in uno studio matto e disperatissimo questo fa Lutero non fa predica in pubblico si mette lì e traduce le sagre scritture in tedesco cioè la lingua volgare che tutti sono in grado di capire vi dico soltanto una cosa qui siamo nel cinquecento in Italia fino al concilio Vaticano secondo 1962 Giovanni ventitresimo la messa era ancora in latino e le vostre nonne nonni nonne o bisnonne bisnonni magari in latino non capivano nulla rosa rose ma non è questo però il padre nostro in latino te lo sapevano dire anche perché in chiesa quando dovevi recitare il padre nostro era solo in latino poi magari la predica il prete la poteva fare anche in italiano sì ma ci sono messe c'era ci sono ancora oggi sono piuttosto rare messe solo in latino messe più o meno come situazioni particolari no ma fino al 1962 se tu non scapivi in latino evviva il dio non potevi nemmeno sentire la messa e anche le sacre scritture erano in latino cioè capite la tradizione del latino e del greco ora a voi del latino e del greco non importa nulla anche se forse un qualcosina vi importa visto che è stato tradizio classico però vi sfugge completamente il nesso ve ne spiego l'origine forse oggi giustamente non ha più senso e infatti il dio classico sta morendo però vi illustro il nesso concreto che c'era tra lo studio del latino e il greco senza ricucirci intorno troppe affermazioni più o meno si ti apre la mente sai quelle cose generiche vi illustro il nesso preciso che c'era tra il latino e il greco e il mondo delle professioni l'upgrade sociale la scalata alle posizioni sociali il posto di lavoro eccetera eccetera il nesso è semplice originariamente erano le sagre scritture e dopo le sagre scritture sono i testi scientifici il latino era la lingua di comunicazione internazionale come oggi l'inglese 600 700 800 se tu non conosci il latino tu sei out non ci sei sei fuori cioè puoi fare il contadino il fabbro sei fuori se vuoi andare un po' più su cioè studiare diritto per esempio tu il latino lo devi sapere come sa il pater nostro che non a caso è il latino l'ave maria sennò sei fuori non ti puoi accostare nemmeno alla medicina sei fuori capite? è la nostra tradizione quella umanistica l'inascendentale molto classista molto classista perché poi alla fine sapere il latino sono poche persone e questa cosa in Manzoni quando parla della zecca Carbugli che è un avvocato a cui si rivolge Renzo che gli porta i capponi è una scena famosa un luogo famoso dei promessi sposi che cosa sta dicendo cosa sta mostrando sta mostrando un personaggio che è figlio del popolo che è un'ottima persona anche un ottimo cristiano il quale però è del tutto succube di un personaggio che sta lì ed è un personaggio anche di bassa lega dal punto di vista morale il quale sta lì però conosce il latino e i testi di legge sono scritti in latino e quindi tu gli devi portare il cappone poi non sarà più il cappone diventerà la bustarella la raccomandazione che è scritto nel nostro DNA culturale anche oggi tu ce l'hai un santo in cielo tu ce l'hai uno che ti raccomanda santo in cielo questo significa ce l'hai la spintarella avete presente questo linguaggio cattolico ultra cattolico italico molto italico ce l'hai qualcuno che ti patrocinia qualcuno che si fa carico di te qualcuno che ti segnala in una società in cui avvigere è la legge in cui siamo tutti pari in cui abbiamo tutti gli stessi strumenti e vinca il migliore non esiste questa società ben inteso non esiste però sono modi di ragionare diversi il discorso di andare lì e portare il cappone perché se tu conosci il primario in quell'ospedale e gli porti il cappone metaforicamente o gli porti gli vai a visita gli dai le centinaia di euro forse il posto per operarti fra un mese salta fuori forse se no crepi ecco oggi purtroppo siamo arrivati a questo ma anche vent'anni fa trent'anni fa quarant'anni fa la mentalità era questa capite? ecco questo è tipicamente cattolico è chi parte da zero chi sta sotto chi non sa leggere chi non ha potere eccetera capite quanto era determinante come si collega adesso io vi sto mostrando quel mondo lì di cui noi siamo parte che non è stato investito nel Cinquecento direttamente dalla riforma protestante ma che poi faticosamente nei secoli successivi si dovrà adeguare alla riforma protestante a posteriori se oggi noi rincorriamo faticosamente scimmiottando termini americani o inglesi o comunque dell'Europa del nord fondamentalmente americani e inglesi e la nostra cultura ormai sta diventando una macchietta andrà a estinguersi come liceo classico detto tra noi e perché noi per quanto riguarda la modernità noi siamo al rimocchio noi ci siamo arrivati dopo quelli ci sono arrivati prima quelli ci sono arrivati prima per tutta una serie di motivi prima rispetto alla sfida della modernità che non vuol dire meglio o peggio noi stiamo parlando di come è andata la storia qui non stiamo dando un giudizio morale ci mancherebbe altro né un giudizio valoriale stiamo dando però un giudizio di tipo storico allora lì ci sono gli elementi della modernità e avete capito anche il paradosso come questi elementi questi semi della modernità che provocheranno immediatamente un dissesto socio-politico economico non indifferente adesso ve ne parlo come questi semi germoglieranno nei secoli successivi ecco perché Lutero è un personaggio chiave della modernità ma come questi semi il luteranesimo paradossalmente è curioso perché la storia è così sono stati messi là da un personaggio che invece non era moderno era antico era medievale Lutero era un frate e lui parlava solo di religione e ne parlava alla maniera antica e si scandalizzava alla maniera antica e si scandalizzava del fatto che il papa un medici era più interessato sapete se vi piace andate a farvi un giro a Castel Sant'Angelo entrate a Castel Sant'Angelo si può visitare si paga il biglietto nelle stanze papali e passate da una stanza all'altra vi portate sempre il professore di storia delle religioni o la professoressa e questo qui vi illustrerà stanza dopo stanza gli affreschi e così via però lì l'intelligenza artificiale te li blocca quasi tutti perché in una stanza ci sono soggetti religiosi la Madonna con eccetera eccetera nella stanza vicino ci stanno i fauni che inseguono le ninfe e lì dormiva il papa che era un grande umanista Lutero una cosa del genere non l'avrebbe concepita nemmeno sentiva puzza di Zolfo dappertutto ma in un certo senso aveva ragione quindi si diffonde dappertutto vi dicevo guarda un po' che succede succede subito il patatrac 1517 le 95 tesi che molto probabilmente Lutero non ha attaccato alla famosa porta della cattaria di Wittenberg le ha semplicemente dichiarate ma il punto fondamentale è che quelle 95 tesi che erano squisitamente teologiche perché lui era un teologo attaccate lì non avrebbero sortito nessun effetto il punto è che sono state immediatamente mandate via email sono finite su whatsapp su instagram su facebook un macello sono diventate virali detto con il linguaggio del 500 stampa 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 olio di gomito in tutta la Germania tutti i villaggi vicini la gente ha iniziato a parlarne oh c'è uno qui Lutero che sta sfidando l'autorità del Papa e la Chiesa che sono quelli che ci prendono le decime che ci prendono le tasse i potenti sono sempre stati potenti evidentemente e quindi questi venditori di indulgenze facevano gli interessi pensate c'era questo Alberto che aveva già due pescovati che non poteva averne due voleva il terzo pescovato il Papa Leone X dice sì lo vuoi il terzo te lo do che problema c'è mi dai gli anticipi qualche migliaio di fiorini si chiama Simonia te lo compri allora dice va bene ti anticipo i soldi e poi lui deve rientrare dei soldi che ha anticipato e come se fa? come fanno oggi con la guerra in Ucraina? come fanno? anticipare i soldi per i grandi venditori di armi quelli che faranno miliardi come l'ha fatto Big Pharma con i vaccini come fanno? li prendono da noi alle poi li prendono su che cosa? a noi ce le prendono dalle tasse ci fanno credere chissà che cosa poi ce le prendono e basta a quelli là si vendono le indulgenze ve ne ho già parlato queste assicurazioni antincendio io parlavo dello zio Hans vuoi andare in paradiso e mi paghi qua 10 fiorini ti compri l'indulgenza il pezzo di carta così Albrecht ritorna dei costi sto Tetzel fa anche la cresta vendendo le indulgenze poi magari lui ci crede veramente chi lo sa forse ci credono veramente comunque è la Chiesa che autorizza tutto questo lo vedi? lo sai chi lo dice? Cristo in persona ma Cristo lo dice il rappresentante di Cristo in terra il Papa vedi? qui c'è la bolla papale con tanto di cera lacca ci vai veramente in paradiso e tu l'unita peccatrice che ti dovi fare cent'anni di purgatorio lo vedi sto pezzo di carta? questo bonus vale 50 anni in meno ti fa lo sconto manco a Monopoli manco a Monopoli una cosa del genere mi spiego? devo rientrare dei soldi e la gente è indignata non gliela fa più per tanti motivi vedete? dal discorso religioso iniziano diffondendosi le notizie questa sfida di questo braccio di ferro tra Lutero e il papato iniziano a esserci delle conseguenze anche nella società civile e così via sapete qual è la novità? i venditori di indulgenze il papa che sta a Roma tutti questi parassiti anzi non sono nemmeno dei parassiti ti dirò di più Roma è la sede dell'anticristo Lutero scriverà un libro intitolato la nuova Babilonia Roma è la nuova Babilonia lì c'è l'anticristo che sfrutta i poveri cristiani che sfrutta la povera gente e allora e allora qualcuno in buona fede qualcuno forse neanche troppo in buona fede ci salviamo attraverso Cristo non abbiamo più bisogno di questi intermediari fasulli che ci vendono le indulgenze che fanno finta di perché noi ci salviamo da soli ci salviamo in comunità ma ci salviamo attraverso la parola di Cristo non abbiamo più bisogno dell'intermediazione del prete si parla di sacerdozio universale ciascun buon cristiano è sacerdote a se stesso sacerdote che cosa fa il sacerdote che cosa fa il pontifex quello romano e poi il pontefice di Roma quello cristiano pontifex colui che fa i ponti cioè che mette in comunicazione l'uomo con il divino valeva per i pontefici romani quindi l'antica Roma la Roma repubblicana e vale anche per il pontefice cristiano ma ora il ponte è la sacra scrittura non ho più bisogno di questi personaggi fasulli che mi mettono fuori strada che mi sfruttano ma sai qual è la novità se non abbiamo più bisogno della chiesa i beni della chiesa non gli paghiamo più la decima e poi i beni della chiesa immensi eh grandi tenute agricole palazzi industrie eh milioni e milioni delle monete del tempo sai qual è la novità questi appartengono alla comunità cristiana sono nostri ce li prendiamo cioè capite qui si va verso il socialismo è qualcosa di terribile via la proprietà ecclesiastica e allora i primi a muoversi furono i cavalieri lo sai Elena chi sono i cavalieri no? questa piccola nobiltà dedita all'uso delle armi fondamentalmente i cavalieri colsero nella predicazione di Lutero un invito ad aggredire la grande proprietà ecclesiastica e impugnarono le armi sta lì ma non è stato Lutero a dirglielo hanno interpretato Lutero cogliendo la palla al balzo vedete la differenza tra Lutero e il luteranesimo come se io metto un post su X lo si chiama X e lui lo interpreta in una certa maniera ma io volevo dire un'altra cosa chi lo sa questi lo interpretano in questa maniera quindi assoltiamo le proprietà ecclesiastiche guidati da questi due personaggi Franz von Sikingen e anche da un umanista Ulrich von Hutten umanista quindi un uomo di cultura che appoggia questa rivolta dei cavalieri e però attenzione sopra c'è un altro potere ancora più forte che è quello dei grandi feudatari i quali non ci stanno a lasciarsi come dire dirubare dai piccoli cavalieri cioè l'idea è che questo messaggio è un messaggio dirompente crea una serie di linee di faglia all'interno della società tedesca quindi tutti sono d'accordo per estromettere Roma e prendersi i beni ecclesiastici chi se li prenderà il pesce più grande mangerà i pesci più piccoli quindi i cavalieri si rivoltano ma a reprimere la rivolta dei cavalieri sono i grandi feudatari scoppia una vera e propria guerra civile tra il 1521 e il 1523 ma una potente lega di feudatari laici ed ecclesiastici represse nel sangue la rivolta Ubi Maior Minor Cessat molto più grave fu la rivolta dei contadini ma di rivolta dei contadini ne abbiamo già parlato vi ricordate che vogliono i contadini da che mondo vogliono la terra vogliono non lavorare più a gratis per il Signore vogliono le garanzie degli spazi comuni poter andare a fare legna nella foresta e le castagne e pescare i pesci nel ruscello vogliono scrollarsi di dosso le catene della sudditanza economica da parte dei grandi latifondisti ieri come oggi e allora questo che ti dice che ci sta scritto là sul Vangelo ma questi iniziano a leggere il Vangelo infatti scusate il primo libro a essere messo nell'indice dei libri proibiti metà del Cinquecento perché poi ci sarà una controriforma la risposta della Chiesa Cattolica alla riforma protestante sarà proprio la Bibbia e i Vangeli perché i Vangeli sono un testo rivoluzionario certo non è che sono esattamente stati scritti la Che Guevara ma poco ci manca e entro certi lini adesso sto scherzando ma insomma dal punto di vista se tu leggi alcuni passaggi li leggi in termini di giustizia sociale e di promesse e li fraintendi clamorosamente li fraintendi che lì si parla di uguaglianza dal punto di vista spirituale infatti Lutero li interpreta correttamente e dà addosso ai contadini ma se tu li prendi alla lettera sotto un altro profilo siamo tutti cristiani siamo tutti uguali e perché quello deve essere ricco sfondato e io debbo morire di fame perché se siamo tutti uguali se ci dobbiamo amare gli uni con gli altri ci dobbiamo rispettare ci dobbiamo prendere cura dei più bisognosi e se il cristianesimo è fondamentalmente caritas solidarietà fratellanza e perché c'è quello ricco sfondato i cui figli possono vivere nella bambaggia e i miei figli invece vengono qui martoriati dalla fame dalla guerra dalle malattie eccetera eccetera e che uguaglianza è e dove sta scritto dove sta scritto che i primi rimangono primi Cristo ha detto che gli ultimi saranno i primi in prospettiva nel regno dei cieli va bene ma io vorrei un anticipo del regno dei cieli qui sulla terra ma uno potrebbe ragionare così ma questi ragionano così e quindi si ribellano anche i contatini ma qui Lutero non l'aveva progettato questo ha detto semplicemente se vi volete salvare l'anima imparate a leggere questi leggono forse fraintendono forse non fraintendono hanno dei cattivi consiglieri Thomas Münz degli intellettuali che cavalcano poi degli arruffa popolo che hanno le loro motivazioni anche ideali forse corrette dei popolari socialisti antelittera la gente qui però si mette prende i forconi fino a ieri combattevo per questa quella causa oggi combatto per la mia causa cheppure guarda un po' la causa dei vangeli sta scritto là nel vangelo me l'ha detto Lutero Lutero no non mi ha detto nulla Lutero mi ha detto leggiti il vangelo lo stesso Lutero entra completamente in crisi perché vedete è bella quella cosa che io ti dicevo prima vi ricordate tutto quel discorso che vi ho fatto che bello imparare a leggere e scrivere che bello la stampa che bella la diffusione delle idee che bello rinunciare all'autorità ed essere noi stessi protagonisti della nostra salvezza però qual è l'altro lato della medaglia come i social oggi che cos'è che diventa virale il frettendimento l'odio la stupidità le fake news oggi si parla di fake news che vengono dinamate tutte immancabilmente dal cremlino e dai suoi manutengoli oggi come sappiamo bene no allora se io do impasto al popolo che si magari sta imparando a leggere qualcosa forse qualcuno sa leggere basta anche capire sa anche interpretare io in un testo vedo quello che voglio vedere faccio i miei interessi sta scritto qui ma guarda forse ha interpretato male mica sono Erasmo da Rotterdam questi qua e quindi interpretano il Vangelo in questa maniera prendono i forconi e si ribellano e toccherà Melissa reprimere la ribellione dei contadini che attaccano i monasteri cacciano via i monaci alcuni li ammazzano le suore attaccano i castelli dei ricchi fondamentalmente le proprietà ecclesiastiche e questi toccherà massacrarli come avevano fatto i nobili francesi all'epoca delle Jacques Rie vi ricordate un secolo e passa prima questi toccherà massacrarli e a quel punto Lutero che sta lì e che è sostanzialmente sotto la protezione di Federico il saggio Friedrich der Weisse e a un certo punto Lutero deve prendere la penna ma non per giustificare i contadini che invece siano ribellati per conto di Lutero a loro dire ma per tuonare contro i contadini e Lutero lì si rimostrerà quel vecchio personaggio medievale che diciamo userà delle parole terribili massacratevi fatevi a pezzi voglio vedere scorrere il sangue adesso non mi ricordo le parole esatte però usano i termini brutali e quindi Lutero altro che rivoluzionario dal punto di vista sociale socio-economico dirà che cosa quando io parlo di libertà io parlo della libertà in relazione alla salvezza dell'anima dell'interiorità ma il corpo la vita esteriore l'ordine sociale rimane tale e quale tu sei nato contadino muori contadino nella Bibbia non si parla di rivoluzione sociale qui la rivoluzione è la salvezza dell'anima in interiore hominis habitat Deus è lì che si parla di Dio e nelle Sacre Scritture si parla della salvezza dell'anima ma non di rivoluzione e questo dirà poi Lutero che prenderà la penna anche su diciamo su stimolo dei grandi feudatari e di Federico in particolare che temono di perdere il potere questi debbono reprimere all'oraggiare presso l'insurrezione dei cavalieri figuriamoci quella dei contadini i quali si richiamavano al Vangelo infatti Lutero condanna la rivolta condanna la rivolta e in questa battaglia a Frankenhausen nel 1525 i soldati dei grandi dei grandi feudatari massacrano i contadini parliamo di un numero di morti stratosferico oltre 100.000 morti una cosa per l'epoca dolorosissima un massacro sanguinosissimo quindi capite vedete quanto è rivoluzionario da una parte io nella prima parte della lezione vi ho illustrato alcune luci vedete anche le ombre terribili le tenebre che questa grande riforma questo grande cambiamento muove le acque cambia gli equilibri all'interno della società e si inaugura un'epoca di lotte di guerre civili dolorosissime ancora più dolorose perché fatte all'insegna delle sagre scritture cioè alle rivendicazioni socio-economiche si uniscono quelle rivendicazioni religiose quel condimento in più di fanatismo Dio lo vuole Dio lo vuole prima contro il turco ci può anche stare ma Dio lo vuole contro il monaco o contro il proprietario del castello Dio lo vuole nel senso sta scritto qua nel Vangelo e ben altra cosa quindi è una guerra intracristiana per così dire è ancora la spaccatura del mondo cattolico non c'è stato per il momento è una guerra questi fatti di cui sto parlando avvengono in Germania per il momento la riforma è limitata alla Germania che non è cosa di poco conto e quindi decapitati squartati impiccati una vera e propria strage Thomas Münzer il capo di questa rivolta che era stato amico di Lutero lo conoscevo Lutero da cui Lutero prende le distanze sul patibolo grida prima di essere decapitato grida tutte le cose appartengono a tutti ma questo comunista hanno fatto bene a decapitare tutte le cose appartengono a tutti ma che sei matto che si dicono queste cose sto ironizzando è evidente tutte le cose appartengono a tutti non sta scritto nel Vangelo Lutero dice che la parola di Dio è sufficiente ma non si rende conto che la gente che spende ogni minuto del suo tempo per procurarsi il pane non ha tempo per imparare a leggere la parola di Dio e vedi che Münzer un ragionamento corretto lo fa dice caro Lutero tu hai detto bene dobbiamo imparare a leggere e scrivere pure Gabriele deve imparare a leggere e scrivere poveraccio se no non può andare in cielo se non legge la parola di Dio va bene è una questione di interiorità ma se quello deve lavorare come uno schiavo con una vita gramissima campa fino a 25 anni poi muore distenti se deve lavorare 12 ore al giorno spezzandosi la schiena ma quando c'è avrà mai il tempo di leggersi la parola di Dio e di imparare a leggere ma di che mi stai parlando anche questo è un comunista antiritta un conto che tu mi dici siamo tutti uguali per l'inteso davanti alla legge tutti uguali poi vai a vedere lei non c'è da mettere accordo il pranzo con la cena e deve lavorare come una schiava dalla mattina alla sera lei c'è tutto ben servito le scuole pagate la sanità privata pagata eccetera eccetera però dal punto di vista della legge sulla carta sono uguali eh ma manco per niente ma vedi che qui è sottile perché uno potrebbe dire vabbè d'accordo ma qui non stiamo parlando che lei pure deve diventare ricca e dobbiamo essere tutti uguali dal punto di vista socio-economico qui stiamo parlando della salvezza dell'anima va bene ma tu mi hai detto che per salvarmi l'anima devo imparare a leggere e scrivere ma se io non ho tempo non ho i mezzi per imparare a leggere e scrivere come faccio ad andare in paradiso questo vuol dire questo vuol dire che viola che è una povera disgraziata andrà necessariamente all'inferno lo vedi è un tizzone d'inferno già lo vedi dall'occhio che dannata no? e pensa che cosa dice alla fine no? con l'ultimo fiato che ha in gola a ciascuno dovrà essere dato in ragione dei suoi bisogni e a seconda delle disponibilità del momento è questo quasi Max scusate ora sto Thomas Muenzer ha fatto una brutta fine e gli sta bene Lutero l'ha anche firmato però facciamo questo ragionamento prendiamo una famiglia quella che c'era una volta ma anche l'istituto della famiglia è quasi del tutto tramontato e viva l'individuo viva l'individualismo viva la solitudine viva la follia individualistica comunque la famiglia avete presente la famiglia? allora in una famiglia come funziona? se c'è un membro della famiglia o funziona così anche in un branco di lupi eh se c'è un membro della famiglia che è più più debole magari in quel momento è malato oppure è piccolo oppure è molto vecchio che fa la famiglia? dà di più a chi sta bene forte può lavorare o ha già di più o ridistribuisce se tu fossi madre e tu avessi a disposizione una pagnotta una sola il pezzo più grande a chi lo daresti? a quello dei tuoi figli che in quel momento è più debole e magari ha anche la febbre e ha bisogno di mangiare un pezzo in più o lo dai a quello che è giovane forte e che magari un altro pezzo di pagnotta se lo va a prendere un'altra parte è una domanda retorica ovvero in una famiglia vigono dovrebbero vigere le regole della solidarietà della carità normale no? a ciascuno secondo il proprio bisogno e non è forse questo lo spirito del Vangelo? entro certi limiti sì e secondo la disponibilità del momento allora prendete questa mentalità che per la famiglia credo che siamo tutti d'accordo forse non lo so però immaginiamo di essere tutti d'accordo e stendiamola al clan alla società civile ai più al vicino di casa in primo luogo quello che nel Vangelo si chiama il prossimo il vicino chiamiamolo così e poi è quello un po' più remoto un po' più lontano la regola è questa allora se c'è una parte della società che è più debole e io ho di più che devo fare? evangelicamente parlando devo rivistribuire mi seguite? questo ci arriva anche un un bambino piccolo con questa logica qui il bambino piccolo se è stato educato correttamente oddio c'è anche quello mio 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 e se mangia tutto lui ogni tanto ci sono anche queste scintille questi barlumi di umanità per cui lo fanno pure i cani i lupi avete presente i lupi? i lupi quando si muovono in branco sapete chi è l'ultimo della fila? quello che avessi trovato avanti quello che segue è il capo branco sapete chi sono i primi? sono quelli più vecchi che hanno un'andatura più lenta perché sono vecchi e tutto il branco va presso a quelli vecchi per non lasciarli indietro quindi a dare il là al branco sono gli animali più vecchi e il primo a mangiare quello che si lascia poi è il più vecchio è il più debole è una logica che vale per tutti gli animali sociali perché i lupi sono animali sociali come lo siamo noi non è una questione di essere buoni o cattivi è una questione che funzioniamo o che funzionano così e noi uomini poi scusate questo non è soltanto un principio di Thomas Munzer o del cristianesimo è un principio che troviamo in tutte le regioni del mondo nell'islam la decima parte l'elemosina e l'elemosina serve per ridistribuire la ricchezza la decima parte o dire se tu hai tanto la tua decima parte sarà decisamente più congrua va agli orfani alle vedove ai poveri almeno questo c'è scritto nel Corano e questa è la pratica o così dovrebbe essere viva il Dio poi c'è il Saudita ricco 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 sfondato e quello povero disgraziato vabbè lasciamo per capi quando dico post cattolico che cosa vuol dire? cioè dalla sua domanda che cosa si evince che la sua concezione la vostra concezione la nostra concezione di essere cristiani o meno è una concezione legata a un certo principio legalistico giuridico ed è legata al fatto che si frequenta o meno la Chiesa cioè una questione alla fine c'è un rapporto giuridico quasi legale ma se io seguendo Lutero e San Paolo ti dico che a fare la differenza a disegnare l'essere cristiano o meno è la fede è il rapporto che tu interiormente hai con il Cristo Salvatore perché mi chiedi mi rispondi che cosa intendi se vado in Chiesa o meno ma la risposta del cristiano del cristiano cattolico la domanda che fa è questa qui cioè noi siamo ancora collegati che ci piaccia o meno poi a nessuno di voi magari interessa nulla al fatto che essere cristiani o essere cattolico significa andare in Chiesa cioè avere a che fare con la Chiesa cioè avere un certo rapporto giuridico esterno io sono se faccio se mi comporto se mi qualifico è esattamente l'opposto del messaggio di Lutero tu sei qui dentro cristiano e allora ti comporti in una certa maniera forse partecipi alla comunità non fa di te il cristiano il fatto di essere presente fisicamente in Chiesa ma siccome tu sei cristiano qui dentro allora vai in Chiesa che è esattamente la stessa mentalità lo stesso rapporto che c'è tra lo studio e i voti tu studi per il voto non prendi un voto perché studi è sempre lo stesso discorso legalistico formalistico quindi lei ha detto ma io sono ma che intendi che vado in Chiesa oppure lei mi risponde risposta standard credo in Dio ma non credo nella Chiesa che vuol dire che vuol dire credo in Dio a fare il cristiano non è chi crede in Dio così genericamente a fare a fare di te un cristiano è chi vive secondo l'esempio di Cristo chi cerca di incarnare la parola del Vangelo quello fa di te un cristiano non crede non è bisogno di dogma io penso che allora sono cristiano io vado in Chiesa allora sono cristiano tu vivi da cristiano? sì no ma io vado in Chiesa ho capito tu vai in Chiesa ma aiuti i più deboli ti metti dalla parte di chi sta peggio di te sì no no e allora non sei cristiano di che stiamo parlando di che parliamo lo pratichi il Vangelo innanzitutto prima di praticarlo lo conosci perché se non lo conosci che pratichi di che parliamo ecco perché l'idea che abbiamo noi dell'essere cristiani è un'idea ma oggi vabbè lasciamo perdere però vedete questa risposta automatica c'è sempre quella mentalità contro cui combatte Lutero ma lì ha vinto entro certi limiti qui da noi no ti faccio un altro collegamento ma che intendi che c'ho la comunione o la cresima è la stessa logica ridicola del fatto di essere o sapere collegato al pezzo di carta cattolica italica oddio il pezzo di carta forse ci vuole che intendi che so fare quella cosa o intendi che c'ho il pezzo di carta che intendi che legalmente c'ho la crisi ma c'ho sì sì ce l'ho a quello vuol dire essere cristiani che capite che Lutero in un certo senso aveva ragione da vendere quando parla hai sola fide è la fede che ti salva il tuo stile di vita il tuo essere non il pezzo di carta dell'indulgenza ecco io credo avervi dimostrato concretamente che quello di cui stiamo parlando non è che abita qui nel libro di storia abita nei suoi circuiti neuronali nei tuoi nei nostri in quella che è la nostra visione del mondo noi ragioniamo in questa maniera questa pagina di storia sta nella nostra mente forse se capite questo guardate le cose con una prospettiva un po' diversa forse